Il lavoro è vita, il lavoro è dignità. Scendono in piazza i professionisti delle scienze motorie. Insegnanti di educazione fisica, istruttori delle palestre e laureati in scienze motorie hanno manifestato questa mattina davanti alla sede pescarese della regione. Chiediamo dignità, hanno detto ai nostri microfoni. Vogliamo chiedere di lavorare in qualsiasi modo e se non è possibile lavorare avere un reddito di emergenza. Questo reddito di emergenza dovrebbe essere dato a prescindere a tutte e a tutti senza chiedere come mai se lavori, se non lavori. Perché il reddito può dare dignità a tutti quanti e una vita dignitosa che potrebbe cambiare la situazione di molte persone come noi. Perché noi siamo dei precariati sia nelle scuole sia nelle palestre e nelle piscine perché non abbiamo un contratto di legge ma abbiamo sempre dei co-co-co. Questi co-co-co non ci danno diritto a nulla, né alla malattia né alle ferie e quindi noi chiediamo di far approvare anche il decreto sportivo che è in quinta seduta al Senato e di far approvare anche il decreto legge del DDL 992 prossimamente. Se non è possibile nell'immediato di farci lavorare con i progetti che sono andati avanti per dieci anni passati. Credi che coloro che lavorano nel mondo dello sport in questi mesi siano stati un po' trascurati? Sì, siamo stati trascurati perché ci sono stati studi che durante la pandemia l'attività motoria ha dato dei frutti per superare questa crisi. Soprattutto con dei ragazzi che hanno sofferto di depressione e con l'attività motoria si andava a sviluppare dei neuroni, dei recettivi neuronali che andavano a combattere contro questa depressione. Noi siamo stati anche trascurati dal mondo politico e dal mondo statale.